Iniziata questa settimana anche nel territorio della TS della Montagna, la somministrazione della terza dose di vaccino anti-covid, interessata a una platea di 4.500 persone. Si tratta di soggetti ad alto rischio che hanno già completato il ciclo vaccinale primario, rientranti in una serie di categorie su cui la terza inoculazione ha evidenziato benefici. I vaccini in uso da effettuarsi ad almeno 28 giorni dalla seconda sono Pfizer e Moderna, indipendentemente dal tipo somministrato nel ciclo di base. Interessate le persone sottoposte a trapianto d'organo e di cellule staminali o in attesa di trapianto, quelle sottoposte a terapie cellulari affette da patologia oncologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi o affette da immunodeficienze, le persone in dialisi o con insufficienza renale cronica e i malati di AIDS. Ci si prenota sul portale prenotazionevaccinicovid.regionelombardia.it nella sezione cittadini trapiantati e immunocompromessi, oppure tramite il proprio medico curante o la farmacia di fiducia. Gli assistiti che hanno già ricevuto la convocazione dall'ospedale non devono effettuare alcuna prenotazione.